L'altro giorno mi è arrivata questa mail Luca, dobbiamo incontrarci per parlare di una cosa davvero molto seria Incurisito dalla questione ho contattato il mittente e gli ho proposto un'intervista Allora, come devo chiamarti? Chiamami Mr. Rafix X Con la X come se fosse un'incognita Ok, raccontami perché mi stai parlando da dietro una maschera e non a viso scoperto Perché ho paura delle conseguenze di quello che sto per dirmi Perché i poteri forti non vogliono che venga divulgata la verità Tutti quanti però sono stati ingannati fin dal primo giorno Tutti quanti devono sapere, devono sapere la verità Ma sapere che cosa? Scusa, sai perché? Che il fantacalcio non è come l'avete sempre immaginato Scusa, come sarebbe? Il fantacalcio non è studio, è solo culo Come? Il fantacalcio è tutto culo Culo? Sì Ah! Eh sì amici, il fantacalcio è tutto culo E questa teoria non è sostenuta soltanto da quest'uomo mascherato Ma da milioni e milioni di fantallenatori sparsi per tutta Italia Avete presente quelle intere giornate spese su Wikipedia russo del bomber arrivato in estate dalla serie C svedese? E tutte quelle ore investite su YouTube a cercare il The Best of Francesco Grandolfo? Pensavate di poter fregare i vostri amici all'asta accaparrandovi il nuovo Dario Hubner, vero? A quanto pare tutti questi sforzi si sono rivelati vani Ok, ok, sconvolgente, ma possiamo toccare con mano queste prove? Non c'è bisogno di ulteriori prove Basta guardare le rose che vincono ogni anno Cioè in che senso? Tu Luca giochi al fantacalcio, vero? Certo, da anni E sei mai riuscito a vincerne uno? Qualche anno che non vinco, ma sì, ho trionfato in diversi Ti ricordi anche che attacco eri riuscito a fare in quegli anni? Beh, ne ricordo uno in particolare Fanta 8 squadre, mille credere in partenza Giacobelotti, Manzuki, Gensigne Era la stagione 2016-2017 E già questo dovrebbe farti capire tutto 29 gol Giacobelotti, 26 gol Belotti, Mario e Lorenzo Così prettamente regalate Di cosa stiamo parlando, ma vai Scusè, ma stai mettendo in dubbio le mie doti da fantallenatore? Ricordo quel fantacalcio Era il secondo al quale stavi partecipando quell'anno Non era la tua classica lega Fantaboccia, quella di cui parli sempre nei tuoi video Nei tuoi articoli, nei tuoi social network Era un altro Avevi anche fatto la live qua sul canale Oltre 70.000 visualizzazioni Era quello il fantacalcio di cui stiamo parlando, vero? Oppure magari mi confondo Posso anche sbagliarmi No, non sbagli Era proprio quello A centro campo avevi Amsic, Peresic, Quadrado, Godzilla, Superman, Gesù Cristo Avevi tutti Ma dai, ma dai Avevi tutti, gli avevi tutti te? Eh? E ancora qua, ti stiamo parlando? Dai, su, per favore Vabbè, ma questi sono giocatori forti Non è culo, dai Belotti dopo quell'anno è diventato forte come te Che sicuramente non sei un fenomeno Ma tu fai la panchina dell'ultima categoria calcistica esistente al mondo Gecko in Italia non ha mai segnato tanto come quell'anno L'anno prima faceva schifo E gli anni dopo Medio Ok, hai praticamente fatto risuscitare i morti Non ti sei ancora convinto? Le scicchini che ti hanno probabilmente lobotizzato il cervello Lobo motizzato, lobotizzato Come cazzo si dice? Avete capito bene, signori? Quest'uomo mascherato Mi ha scritto solamente per insultarmi E dirmi cose come Gne, gne, gne Se è solamente un fortunello L'ho fatto a calcio Oggi va di moda Tutti ci fanno i video sopra Le visualizzazioni facili I soldini facili E nessuno sa di che cazzo si sta parlando Eh? Nessuno Nessuno lo sa Ma lo sapete di che è stata la prima idea? Sapete chi è stato il precursore? Sono stato io L'idea era mia 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 Un po' come quando facevi post partita E la gente mi veniva a scrivere nei commenti Stai copiando Seekwulf Sto copiando Seekwulf Sto copiando Seekwulf E nel 2014 Quando facevi post partita dell'Italia di Prandelli Dov'era Seekwulf? Eh? Dov'era? Stavo copiando qualcuno Che ancora non sapeva che cosa fare? Stavo copiando qualcuno Che ancora non aveva avuto l'idea Di fare quello che sta facendo? Che cos'era? Era un complesso gap temporale? Eh? Dov'era Seekwulf? Eh? Dov'era? Ehi, ehi, ehi Rilassati amico Ma come cazzo? Come cazzo fai a interagire con il video che sto girando adesso? La parte in cui ci seravamo io e te l'abbiamo già girata? Dove cazzo sei? Dove? E' un po' come lo stesso principio dell'effetto Pac-Man L'uomo non sarà mai stato sulla luna E questo è un dato di fatto Ma è possibile cambiare dimensione, spazio-temporale In determinate condizioni di latitudine e di longitudine Non ci ho capito un cazzo di niente Ma va bene, va bene, vai, vai Non è direttamente un attacco a te Ogni fan d'allenatore deve capirlo Deve capire che vince per puro culo Ogni vittoria Ogni più tre È direttamente collegata all'asta L'asta quella che viene effettuata ad agosto Ok? Lì Lì È tutto collegato lì La fortuna influisce anche nell'asta Soprattutto nell'asta Sì dai Fortuna mica tanto Cioè considera Quest'anno Quest'anno ho comprato Piontech Ha solamente un credit Ah eccolo 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 ci sei arrivato Perché Piontech Eccolo dopo la stagione Gli ha fatto Non lo chiama il culo E allora come lo chiami Come lo consideriamo? Se proprio devo ammetterlo Beh forse chissà Può essere non ho idea Però attento Perché questa cosa Questa cosa puoi guardare anche dall'altro lato Ricordi quanti Quanta calci Hai perso per sfiga Bene La tua sfortuna Non è altro che il culo Di un altro Inversamente proporzionale Al tuo fatto L'anno dei 36 gol di Wayne Avevo il Pipita Icardi E Pavoletti Ho perso contro uno Che aveva Ilicic Bernardeschi Entrambe la Fiorentina E Salah Ecco Vincere un attacco del genere E un classico caso Di culo al Fanta O come l'anno In cui persi il fantacalcio Per colpa della tripletta Di Gemayli Era il 2012 2013 Ritorno Scontro diretto Io contro il primo Se vincevo lo scavalcavo E non sono mai più riuscito a prenderlo Davvero A lui è entrato Gemayli Dalla panchina Tripletta contro il Tori Per i due gol Non ha neanche esultato E poi al terzo Boom boom Festeggiamento D'una parte e dall'altra A centrocampo Avevo Amsic In quella stessa partita Sbagliò un rigore addirittura Non ci posso credere E avevo anche Cambiasso Cambiasso Che è stato espulso Inter-Juventus Fallo Idiota Su Giovinco Partita ormai conclusa Quel giorno ero anche allo stadio Ho perso un fantacalcio così Vedi Luca Ora tutto Sta diventando più chiaro Ora tutto È più delineato Sta assumendo Praticamente Un senso logico E no E no E no Perché Quest'anno Il fantacalcio Ce li ho io Bernardeschi e Gemaili Fenomeni con gli altri Dove sono andati Il primo Il primo È scomparso Invece che regalare un quadro A Cristiano Ronaldo Per Natale Poteva prendersi Bigliettini del treno Andare a Lursa A farsi curare Perché non c'è più È morto Dov'è? È finito Bernardeschi Non c'è neanche in allenamento Non mette neanche più le foto Neanche sui social Un po' come me E Gemaili? Gemaili? Quando gioca Perché ormai Non gioca neanche più Da capitano Del Bologna Trascinatore Non gioca neanche più E quando gioca Sembra mio nonno Mio nonno E io non ho più nonni Sono morti tutti E vabbè Ma allora adesso Ti stai lamentando Del proprio grasso Hai chiuso L'andata da primo In classifica È un buon distacco Sulla seconda Sei quello Che ha fatto più punti È in attacco Composto da Cristiano Ronaldo Pionde Che guagliarella Va bene Avrai speso tanto Persino In inizio anno Ci credevi un po' di più Adesso lo tini Fa la muffa In banchina Ma che cosa Potrebbe andare storto Che cosa Cosa ti tuba Ma che cosa c'è Che non va nella tua rosa Così È perfetta Guardala I miei portieri sono Gomis Sorrentino E Siculin Grazie Lo presto molto Fai schifo Non capisci Un cazzo di calcio Chiudi il canale Che è morto Era meglio Quando facevi FIFA Non copiare Gabbo Mann Eh già YouTube Italia YouTube Italia Grazie a tutti